Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati al nostro appuntamento con la serie dedicata a World of Tanks Blitz. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi, naturalmente, che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre faccio, vi ricordo che nella descrizione del video trovate i link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente a trovare un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino a 70% e poi, naturalmente, per gli amici di YouTube, campanellina, visitate il sito www.ipianibio.it, mi raccomando, visitate il sito e soprattutto acquistate il vero cibo biologico italiano. Allora ragazzuoli, oggi siamo in compagnia del secondo plotone e non come in questo momento ha scritto Stream Elements. Quindi andiamo avanti con la nostra carriera, qui, naturalmente con il reparto di cavalleria blindo pesante e saluto naturalmente tutti i reparti di cavalleria, in particolar modo gli esploratori blindo leggeri, oltre naturalmente a salutare anche i mitici equipaggi delle blindo centavore, tutti i carristi, eccetera eccetera. Vabbò, detto questo, vediamo un po' cosa riusciamo a fare di buono. Qua siamo sempre con un carro che non è proprio il massimo. Mettiamo un po' di turbo qua. Ora, questi motori, in teoria, dovrebbero venire... Oh! Dovrebbero venire ad attaccarmi, infatti. Io ne approfitterei per... Aia! Oh, l'abbiamo presa, aspetta, credevo di non prenderlo. Andiamoci sempre attorno. Mai scollettare... Mai scollettare... Eh, vabbè. Uh, attenzione, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Veloce, veloce. naturalmente saluto e ringrazio tutti coloro che ieri sera sono passati a salutarmi in questa sessione serale e insomma mi ha fatto enormemente piacere ricevere la visita di tanti amici ed amiche ahiaia vai un altro colpo dai un colpo di vitale in quella parte su 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 dai boom oh dov'è l'altro guaglioni venite qua uno solo mi serve che mi venite ah ma siamo in ah in quattro ok 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 allora teniamo la posizione siamo stati più fortunati del solito dai 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 vieni 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 da nea ma gi 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 ai 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 gi 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 oh oh my oh man what the hell what's up my friend yes giusto così oh abbiamo preso un nuovo premio qua vediamo un po' di cosa si tratta allora approfitto anche per salutare naturalmente Morino la zappa assorta ringrazio anche i piani gaming per il sostegno saluto e ringrazio anche il mister aie aie aveasso official che vi invito a seguire oltre naturalmente a gippo la zappa assorta e chi ha a kaiman lori insomma grazie ragazzi ovviamente per la vostra stima la vostra amicizia thank you so much my friends allora vediamo un po' reclama cosa ci da niente va bene siamo a livello 2 ah ma qua ci vuole tempo però vediamo un attimo le missioni level mission ah ok quindi i livelli si sbloccano così ok perfetto andiamo avanti questo carrolloido molto più robusto cosa abbiamo messo ok desertica ok vai andiamo a comandare saluto e ringrazio mi stavo dimenticando dei canali telegram e tutti coloro che ospitano le mie live ringrazio il gruppo della zappa storta ringrazio il gruppo di salvo farmer ufficiale mitico salvo che saluto moreno e il il gruppo di neo fern o fern boss che saluto naturalmente vi invito anche a passare nel suo canale allora questi moci beccano sicuramente alle spalle quindi mettiamo un po' di turbo qua questo è il carro più veloce che abbiamo in dotazione anche come spinge a 40 km ora uh 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 viene 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 da piglio per to oh Ma match Oh, hai vabbè 3 contro 1 Ah, 3 contro 2, vabbè Abbiamo fatto troppi in Giole, Rambo Andiamo avanti, va Saluto anche Gaia, naturalmente Mi stavo dimenticando di salutare la nostra mitica Gaia Ringrazio e saluto anche Oleari Enrico In bocca al lupo per il tuo intervento Per l'operazione E saluto anche l'amico Gaspari Mamma mia Oh via Ma è ora di andare, tu dove? Non lo diciamo Aiuto, oi, Winner, dove stai? Ora sta Winner, Winner Taco Oh, oh cacchio Vai, vai, vai Grande Oh, però qui Mi dice che Sono ancora sotto Diremo chi cacchita Cioè, chi cac... Ah, qui c'è il Leopard Ah no, AT8 Mamma mia E quando è che lo mettiamo K.O.? L'AT8 Eh sì, quello ci fa pareggio mare a noi eh Come ho io volto colpire la ottica? Oh, come ho io volto colpire la ottica? Oh, non me ne ho mai sentito E che cacchita è? Sono fatti di acciaio inossidabile Ah, la mo' Ma lì c'è un chilo, Victor, due Ahia Eh sì Vabbè, domani E se è pericoloso C'ho Un carro leggerino Quello è pesante, vedo? Quello è pesante Oh, caro Ricci Calma, adesso si butta davanti i piedi Sì, butto Oh Va bene, ho capito, ho capito Mi sposto Ho capito che mi devo spostare Gigi Oh no, gigi Gigi Ce n'è uno Questo mi preoccupa Questo mi preoccupa What's, what's Oh Che è successo? Oh, eccolo là Guarda dove sta Il fringuellaggio Uh, ha fatto una bella raffighetta Tutum Gigi Qua ci meritiamo Un applauso Allora Facciamo Oh, per il momento no Dai Eh Vai, ah Tiamo un bel pollicione in su Albissartua Albissartua Semper 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 Eh Vabbè Per il momento Per il momento Nisht Era qua Ah Me ne ho scordate che c'era questi qua Gli ingendiari Vabbè Semper E ろ своим 到 T Vabbè Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'assist comunque è grande, grande. Grazie a tutti. 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 Mi sono andato un pochettino a tuzzuliare, come si dice in lingua napoletana. Mi sono andato un colpo di qua e un colpo di là. Oh, mi sono andato un pochettino. Mi sono andato un pochettino a tuzzuliare, come si dice in lingua napoletana. Ha una caratteristica. E' un pochettino molto particolare è un pochettino. E' un pochettino, come si è andato un pochettino. chi è andato un pochettino. degli amici di... 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 Vai, vai. Eh, sì, è andata a vuoto questa. Mi sa che sono rimasto da solo. Un cazzo. Un cazzo colpito. Eh, vabbè. Uh, zitto che mi ha... Mi ha pigiato, non mi ha pigiato. Sì, però sono in pericolo. Perché sono da solo, voglio. Oh. Boom. Boom, ragazzi, boom. Oh, oh. Ce n'è uno? Ah, ce ne sono due. Aspetta, aspetta. Questo me lo decidi di prenderlo. Oh, oh, ma... Ma, il combariello là. Oh. Questo me è diventato invisibile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Ma, dove stas? È il fringualeros. Dove è spugato? E necce. Oh. Ah. È diventato invisibile. Guarda. Vai. Zio Dab win. Ehi, ragazzi. Ma quando ci faccio là? Eh. Cioè, vi rendete conto? Non so quella. Non so quella. Cioè, se... Oh, c'è qualcuno che... Ah. Diamo un bel gg. Sono stato... Bravo barra fortunato in questa fase. Molto, molto fortunato. Molto, molto fortunato. Molto, molto fortunato. Sono stato molto, molto fortunato. E... E... E tuz e tuz. Oh yes, oh yes. Come ti piace. Come ti piace. Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Vai. In attesa di giocatori. Ah, vabbè. 23 metri. Uo, che sta qua vicino? Sto. Mai 3 metri. Ah, questo è complicato. Vai, mettiamo il turbo. Quasi, ma ci attaccano. Escono dall'altra parte. Io, ma è mai che me la sfigno. Scappisci, zio tabbo. Scappisci, scappisci. Ulla, ulla, ulla. Aspetta, ne sento uno. Va, 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 va. scatototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Spingi, 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 nooo, wow, eh vabbè, era impossibile, l'ho fatto il rambo della situazione, vai vai, andiamo alla prossima. Dobbiamo ancora sbloccare l'altro, un altro carro ci vuole parecchio, necessita mucho dinero, e tu, e tu, e tu, allora qua, andiamoci ad imboscare a solo posto, ci imboscare no, ma a posizionarlo. questi sono i carri pesanti dovrebbero fare copertura dalle spalle allineamento e copertura ragazzi mettiti avanti dai bravo fammi copertura bravo bravo fammi copertura dammi copertura dammi copertura ok bravo bravo allineamento e copertura vai non si può ancora andare a conquistare la piazza non abbiamo penetrato la piazza vai qua ce ne sta ok allora andiamo andiamo a conquistare la piazza vai oh però ho sentito aiuta eh che dovrei dire io qua oh guarda sta che sta ah sta dietro la casa non abbiamo neanche cambiato come no dai fallo uscire allo scoperto eh si mette proprio davanti là eh si è messo con lo scafo sotto vabbè noi intanto ci catturiamo la città ale 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 gg oh caccio feccato amico colpito aspettiamo che si fermi ecco l'amico colpito gg ragazzi wow che intervento wow grande grandissimo intervento mamma mia mamma mia gg è un super gg ragazzi siamo ancora a livello 2 qua si qua è lungo fatto collect key ok questo l'abbiamo l'ho fatto già off camera stamattina vai vai gg ok ok go comunque mi sa che c'è un calibro più piccolo questo qua rispetto all'altro dov'è dov'è avere un calibro più piccolo il calibro più piccolo non si ma comunque è ora di andare ecco ecco questi tra poco dovrebbero sbucare da lì dietro e vatti e No, 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 no. Via, via, io me la svegno, io me la svegnaos. Breccato. Singolo colpito. Vi abbiamo fatto il solletico. Eh, sì, sì. Oh, l'abbiamo danneggiato. Breccato. Eh, vabbè. Mamma mia, stu, levo parte è proprio una rottura di scatole. E' scatuletta. Questo è un signor carro. Buono. Buono, buono. Gigi. Eh, sì. Mi sono scordato che quelli escono come i funghi. Eh, beh, qua. Qua pure, non scherzo. Ah, ci abbiamo il leopard, ottimo. E' ora di andare. Vai, leopard, pensaci tu. Visto che ci troviamo, seguiamo il leopard. Cerchiamo di stare incavati, incassiati all'interno delle dune, perché se ci buco qualcuno ci fa, ci fa il, il mauzetun, il mauzetant. Eh, là c'è pure un altro. Vai, vai, faccia dell'eopart. Vai, 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 carica, 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 carica. Ai. Oh, caccio. Vai, 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 carica. Guardare. Oh, caccio. Grazie a tutti. Vai, 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 veloce, 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 sì, no, oh, è che lei dormiva? E che caspito, eh, le trifoliamo, quella, quella è quella, è quella Leopard, nemico, non so, non c'è la miseria. Ah, il semo 20, ah, tutto chiaro, tutto chiaro, fammi seguire Leopard, Leopard si è stato, si è stato, eh, t'ha sgamato. Oh, eccolo, alle spalle, vai, puoi fare, vai, sandwich, vai col sandwich, vai, vai col sandwich, ah, 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 ah. Mamma mia. Ma? Ah, ne rim... due contro uno? Vai, 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 fammi vedere, vai, Leopard, faccio il tifo per te, vai. Eh, ma quanto, quanto è che... Eh... Aia, 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 aia. Eh... Grande, grande Ura. E mettiamo un bel muscolaccio a Ura. Ura e sempre. Ah, 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 ha fatto la battuta lo zio d'Aba. Missione 5. Vai, vai, cosa ci dai di buono? Vediamo un po'. Incremento combattimento, ottimo. Ottimo, direi. Aspetta. What? 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 What is? Allora, questo l'abbiamo già riscattato? Ah, no. Eeeh... Ah, reclamare convenz. Ah! Otto verbo. Qua... Il passaggio è top. Qua è proprio top. Top, top. È troppo bella. È troppo bella. Eh, che, che... Dov'era? Eeeh... Ura, Ura. Ah, ora gli mettiamo il bicipitone. Oh, capo, vai. Allora, vediamo un attimo quanto ci manca... Ah, mi sa pareggio ci manca. Seicento settantacinque mila, minimo nove... 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 Nove trentacinque. Quindi... C'è ancora da sudare. Da transpirare. Però dopo prendiamo un carro leggero. Ci facciamo un po' di... Bum bum bum. Allora intanto attiviamo. Uno... Ecco qua. E lo sappiamo che loro lo sboccheranno da là, quindi... Mettiamoci in un cespugliozzo. A tenere la posizione. Va bene. Leopard, dove sei? No, non dovrebbe esserci il Leopard. M... Uh, caccio. Uh, però l'ha fatta male, eh. L'ha fatta male. Dai. Uh... GG, ragazzi. Eh, ci grida. Sì. Colpo critico. Colpo critico. Colpo critico. Questa mi c'ha... Vai, 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 vai. Vai, vai. Dai. Dai. Colpo critico. Il motore sta fumando. Abbiamo un cingolo danneggiato. Motore distrutto. Eeeh. Eeeh. Ci danno proprio fastidio. Questi Leopard. C'è la miseria. Eeeh. Eeeh. Prendiamoci un carrettino leggero, eh. Prendiamoci un carrettino leggero, eh. Prendiamoci un carro leggero. Eeeh. Eeeh. Ecco qua. Sì, qua. Allora. Proviamo. Questa l'ho già provata. Off camera. Ah, il francese. Il Renault dovrebbe essere questo. Proviamolo. Eeeh. Vediamo com'è il Renault. Cannoncino corto. Intanto lo paghiamo a zero, quindi. Ah, infatti è proprio un Renault R35. Vai al carro. E' al carro. Potenzialmente... No, grazie. Preferisco ottenerlo così. Molto sparta. Justo per provare. C'è un Renault R35. R35. On va voir un peu comment ça marche, ce char là. Aller le bleu, aller le bleu. In un paese. Ok. Mi sa che non è cruz. Ah. Quello. Livello 2. Vabbè, qua... Se ci va bene. Siamo inizio allo spettacolo Vediamo un po' il Renault come si comporta Renault si è più facile Oh l'intuscio però Non è proprio velocissimo Queste mi fanno fuori nei cirodi Uno barra due colpi Ma c'è il cannoncino che non è niente male Eh Renault è un po' lentino eh Fisce il Leopard Noi riletto ah là là riletto allè le bleu allè le bleu allè le bleu allè le bleu e va beh Vieni, vieni Oh Eh, questi sono I carri Non è buono Beh, dobbiamo potenziarlo Vediamo un po' Ah, questo è un battaglio bello Nel frattempo andiamo avanti Questo qui Andiamo a comandare Oh 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 Ma niente, niente Qualcuno di questi sta guardando la live, no? Oh Un brullo Llegate loco No Oh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.